quante volte hai pensato a questa frase probabilmente l'hai sentita da altre persone il migliore investimento per la vita è vivere un viaggio decidere di fare un viaggio sì perché è un migliore investimento perché le emozioni sono quelle che resteranno nel tempo i ricordi memorabili sono quelle che resteranno nelle nostre cellule nelle nostre emozioni e quando incontriamo persone nuove viviamo nuove esperienze assaporiamo dei piatti particolari di ogni città del mondo ci godiamo il sole sulla pelle l'aria differente e poi magari vediamo paesaggi immensi sì perché il viaggio spesso lo ricordiamo nella nostra mente e lo viviamo ancora come se fosse vero allora perché non iniziare a sognare qualcosa di diverso iniziare a viverlo nella nostra vita e poi tenerlo tenerlo nel tempo ed è per questo che noi abbiamo creato qualcosa di differente qualcosa di unico qualcosa di esclusivo un viaggio unito alla crescita personale dove a forte ventura organizziamo quattro eventi all'anno normalmente nel periodo di novembre gennaio febbraio marzo quando normalmente in nord nel nord italia o meglio dal centro italia perché tante volte nel sud italia ci sono delle temperature veramente ancora calde in nel periodo invernale ma tendenzialmente quando andiamo in un luogo come le isole canarie abbiamo l'opportunità di ritornare in questa primavera dove spesso si fanno anche dei bagni e si vivono veramente delle emozioni intense e dal 2019 che siamo presenti nel territorio il primo primissimo evento che abbiamo portato alle canarie esattamente a gran canarie e poi abbiamo diversificato perché abbiamo compreso che la natura è importante e ha un impatto fondamentale nella nostra vita e quindi abbiamo integrato i quattro elementi della natura per viverli saporarli entrare più velocemente in contatto con questo grande universo sorgente chiamala come vuoi però sappiamo benissimo che intorno a noi intorno al nostro cosmo quando mettiamo delle intenzioni specifiche viviamo delle esperienze diverse e possiamo anche apprendere tantissime tantissimi nuovi punti di riferimento quando cerchiamo dentro di noi delle risposte concrete quindi quello che voglio suggerirti è ovviamente di visitare il sito talentlabadventure.com e vedere tutto quello che abbiamo fatto le altre esperienze le persone che hanno partecipato ma oggi voglio darti l'opportunità di condividere con te quello che facciamo e quello che esploriamo nell'isola di forte ventura è una cosa ovviamente che non facciamo spesso perché perché vogliamo lasciare la sorpresa alle persone che arrivano i gruppi che teniamo normalmente alle canarie sono dai 14 alle 17 persone e abbiamo messo come citazione un viaggio dove il centro sei tu quando le prossime date segnale segnale direttamente 23 30 ci sono ancora pochi posti 4 11 gennaio 15 partenza 15 febbraio partenza 15 marzo ci sono varie tipologie di aerei dipende da dove parti il volo è a carico tuo perché perché potrebbe essere che parti dalla sardegna dalla sicilia dalla calabria da roma da napoli dove decidi di partire tu e ti scegli l'aeroporto più comodo e consono quello che noi consigliamo è di utilizzare easy jet che è quello più economico e arriva direttamente in quattro ore arriva direttamente nell'isola c'è anche ryanair dipende dalle aeroporti che che decidi di partire curiosità se guardi le isole canarie sono sono sette adesso ne hanno implementata una in più a lanzarote che si chiama la graziosa ma in questo caso lasciamo la storia così com'è poi nell'evoluzione vedremo se quest'altra l'ottava isola delle canarie diventerà parte integrante di tutto l'arcipelago comunque andiamo a vedere così anche un po di fantasticheria se possiamo dire questo usare questo termine se mettiamo ovviamente le le isole in verticale notiamo che sono molto simile ai nostri chakra per chi non conosce i chakra sono dei punti vitali per i quali l'oriente l'oriente si ha messo a disposizione delle nostre nuove tecnologie nuove ma non c'è nulla di nuovo perché le hanno già vissute loro hanno individualizzato che noi nel corpo abbiamo sette punti energetici con dei colori e ogni punto energetico ha una sua funzione e allora così lasciando un po nel mondo mistico immaginario vediamo che forte ventura è il sesto chakra quindi la connessione con l'intuizione il terzo occhio la possibilità di avere delle visioni e delle intuizioni dove saremo saremo a coral eco nord dell'isola dove alla sera sarai libero fare che vuoi quello che desideri andare al ristorante correre camminare insomma ci sono tantissimi luoghi da poter esplorare durante la sera per vivere tranquillamente in autonomia se non hai voglia di uscire tieni presente che dove tu sarai sei all'interno di una residence che c'è la sua cucina ovviamente qua è una testimonianza che potrai vedere sulla pagina del sito ufficiale ecco qui è la tipologia del residence 9 noi prendiamo degli appartamenti che sono tendenzialmente 10 minuti o addirittura 10 minuti in troppo e dalla mia considerazione sono 30 passi dipende dal tua andatura ma sono 30 passi per arrivare di fronte al mare ecco questa è la tipologia sono residence appartamenti con cucina privata bagno privato c'è all'interno la piscina e ovviamente ci sono tutti i comfort possibili immaginabili al di fuori del residence quello che faremo il primo giorno quindi la domenica e fare un'escursione all'isla dello slobos che andremo con un'imbarcazione in piena sicurezza dove faremo delle attività ovviamente di formazione durante durante la mattinata in più tornando tornando dall'escursione dello slobos si farà una camminata di un tot di chilometri sarà stancante non sarà stressante ma sarà rigenerante rigenerante perché camminare in mezzo alle dune e comprendiamo benissimo queste dune sono un parco naturale è una riserva naturale è tutta sabbia sahariana che arriva dal deserto africano quindi quando arriva il vento dall'africa si chiama calima porta nell'isola questa questa sabbia che è del deserto quindi è bellissimo camminarci sopra sulle dune giocarci facciamo anche lì dei lavori di formazione poi andremo successivamente un altro giorno in playa popcorn andrò veloce sulle slide perché lì faremo delle attività di formazione playa escalera luogo veramente suggestivo come tutti gli altri è un all'interno di un'insenatura non sembra neanche di essere alle canarie in questa in questa località faremo un'attività al labirinto all'interno di un'abitazione privata un labirinto dove ci permetterà di unire i due emisferi parte logica e parte creativa andremo anche al sud e quindi visiteremo sottavento qui esattamente l'hotel melia dove ci fermeremo e di sotto dell'hotel troveremo un bar dove possiamo utilizzarlo per quello che è necessario fare insomma poi mediamente tutti i pranzi sono al sacco sono oppure ci si ferma in qualche supermercato e si trovano dei piatti già fatti e preconfezionati anche si trovano insalate sono prodotti naturali poi andremo alla pared a fare un'altra attività molto potente questo è un altro luogo suggestivo naturale naturale perché come vedi non c'è un ombrellone molto roccioso ma il mare è veramente potente intenso anche le sue onde ci aiuteranno a portare e amplificare l'energia qua questa è proprio la parete chiamata parete perché c'è una parete che divide due luoghi specifici del sud ovest di fuerteventura poi andremo anche alle grotte di aiuto da cui non è una grotta dove si soffre di teostropobia è una grotta in completa sicurezza come vedete ci sono delle scale e dove si scende in piena tranquillità e sotto sta qui è una grotta dove anche lì faremo una meditazione molto potente ci sarà un pomeriggio informazioni in aula un'aula molto particolare tutta il legno completamente biologica quindi non ci sono dispersioni energetiche campi nodi nodi di hartmann non so se ne hai mai sentito parlare questi nodi che creano comunque delle delle interferenze è proprio pura 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 costruita sul terreno non ci sono veramente cavi che possono disturbare la nostra meditazione e quindi non ci sono interferenze dove faremo un'attività e delle sorprese posso dire proprio tutto poi ecco andremo a visitare anche nord ovest il cotiglio dove insieme andremo a vivere un'esperienza magica che è il tramonto del cotiglio che veramente bellissimo bellissimo aperitivo che faremo insieme ecco qui è un breve video ti fa capire cosa facciamo nell'attività tutto quello che andremo a esplorare è molto dinamico non è non siamo siamo fermi sì quando ci fermiamo nei luoghi ognuno c'è il suo tempo il suo spazio alla sua possibilità di vivere un'esperienza straordinaria ecco a cosa serve questo percorso intanto ti vedi l'isola da nord a sud e hai un'opportunità di vedere alcuni luoghi che solo per trovare quei luoghi serve tempo serve servono errori perché non sempre si arrivano nei posti giusti quelli indicati nelle mappe ma non nelle mappe turistiche noi abbiamo scelto le mappe delle persone che hanno vissuto l'isola di forte ventura come o come cameraman come fotografi come reportage come insomma troviamo o comunque persone che hanno già ricercato dei punti energetici all'interno dell'isola cosa serve questa formazione oltre a visitare l'isola hai l'opportunità di lavorare su di te quindi ben venga fare degli esercizi mettersi in gioco mettersi in azione mettersi in discussione con il gruppo e tutto questo ti aiuta a rimuovere i blocchi del passato liberarti dalle paure paure mentali che spesso la nostra mente riporta nella quotidianità ritrovare il nostro equilibrio comprendere capire come gestire le nostre emozioni lavorare sulla centratura e sulla focalizzazione quindi nel creare qualcosa di nuovo della nostra vita e comprendere il potere dell'identità nella stessa nostra autenticità quella natura massima espressiva e noi ovviamente possiamo mettere in azione nella quotidianità che a volte succede succede che restiamo un po smarriti da da dal nostro dalle nostre esperienze dalle persone che frequentiamo che magari abbassano la nostra energia quindi ritrovare con la forza l'intenzione nel positivi nella positività nelle emotività nel vivere l'amore per noi stessi sicuramente lo sai anche tu una volta che stiamo bene abbiamo l'equilibrio dentro di noi il mondo intorno a noi cambia quindi si lavorerà sulle energie sulla vibrazione e diventi libero libero dai paradigmi delle vecchie idee su te stesso perché perché il gruppo fa il territorio fa quello che metto in campo io e le altre trainer e altri relatori che saranno insieme a me faranno la differenza e quindi ovviamente troverai anche tu la la tua strada quella più giusta per realizzare i tuoi intenti puoi partecipare in stanza singola in doppia oppure puoi venire con chi vuoi puoi venire anche con la tua famiglia e magari frequentare quel corso la tua famiglia fa una vacanza diversa dalla tua ok quindi il percorso è adatto a tutti sia ovviamente alle persone che sono già del settore hanno voglia di integrare nuove competenze nuove abilità oppure una persona che ha voglia veramente di lavorare su di sé e trovare idee suggerimenti strategie per poter star meglio con se stesso oppure quella persona che ha smesso un ciclo di vita di un lavoro di un ciclo di vita nel senso lavorativo di una relazione di un business e vuol crearne uno nuovo ecco questo è il momento esatto per fare un reset aprire una pagina nuova e creare veramente quello che desideri e non è adatto a chi non vuole cambiare non è adatto a chi aspetta il cambiamento verso l'esterno ma è adatto alla persona che vuole cambiare vuole trasformare vuole generare delle nuove azioni l'investimento prezzo ufficiale sarebbe di sin nella singola 1.890 in doppia in doppia condivisa 1.690 se vieni invece con una persona 1.400 se porti tu una persona 1.400 a testa ma siccome abbiamo lasciato i prezzi ancora quelli sarebbero i prezzi nuovi per il prossimo futuro perché ovviamente ci sono stati tanti aumenti ma abbiamo deciso di lasciarlo ancora per questo periodo di tempo la singola 1.590 in condivisione 1.490 e in coppia cada uno 1.290 ok poi ovviamente mi puoi scrivere e sono a disposizione per darti tutte le novità per quanto riguarda i percorsi perché novembre sarà fatto in un certo modo gennaio in un altro modo febbraio marzo ma non perché cambia perché ogni tanto arrivano degli ospiti e quindi grazie agli ospiti possiamo integrare delle nuove insomma dei nuovi concetti che io insieme anche a danna cavagnoli che è esperta in scrittura terapeutica faremo anche degli esercizi di scrittura e quando ci sono degli ospiti diamo l'opportunità anche a loro di trasmettere le loro competenze le loro idee le loro le loro strategie e tutto ciò che hanno imparato nella vita quindi cosa fare è molto semplice è molto molto semplice decidi 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 perché le persone che hanno voglia di cambiare la propria vita di trasformare la propria vita è decidere velocemente iniziare a prendere il volo subito prendi il volo in quelle date indicate e poi mi contatti risponderò direttamente io o anna anna che sarà comunque con me anche durante il periodo della della settimana a forte ventura mi iscrivi direttamente a me l'altra cosa che che vuoi fare se non vuoi chiedere delle informazioni vai sul sito diretto diretta talent lab adventure punto com e vedi quello che facciamo vedi il programma vedi chi siamo se ancora non mi conosci eh vedi tantissime cose che abbiamo fatto non solo nel talent lab avvento perché è da circa diciassette anni che portiamo formazione in italia e all'estero e poi ovviamente io ho dei delle esperienze passate che mi hanno permesso di eh mettere in campo tutto quello che faccio e quello che andremo a vivere come esperienza quindi fa il passo iscriviti i posti non sono eh da platea da cento duecento persone perché è un percorso esperienziale vogliamo che ogni singola persona sia protagonista di se stessa e si viva al cento per cento questo tipo di esperienza abbiamo gruppi di quattordici massimo diciassette persone ma non di più arriviamo a quattordici persone possiamo arrivare ripeto a diciassette dipende anche chi abbiamo con noi che ci può aiutare per dare il massimo il massimo dell'attenzione ogni singola persona quindi mi auguro di vederti dal vivo di conoscerti e eh fai passo vai direttamente nel sito e manda la tua candidatura invia la tua candidatura ciao